la senti la natura intorno a noi? la leggera prezza del vento? c'è questo piccolo borsello questo è fatto male e dentro ciao allora come si sta qui? si sta bene? si si rispetto alle temperature a cui siamo abituati qui 25, 26, massimo 28 gradi direi braviglioso facendo un pochino anche il sole è paradisiaco lo so questo posto adesso stiamo un po' qui per riposarci in attesa di fare il safari del pomeriggio che partirà circa verso le 4 e intanto volevo metterti la prima solare perchè anche se non c'è un caldo esagerato comunque è importante sempre mettersela sul viso ti metto la 50 non voglio sentire scusa assolutamente ok? vieni qui la senti la natura intorno a noi? la leggera prezza del vento? te la spalmo bene sul viso ok? sul collo ecco qua ancora un pochino meno e meno il resto lo spalmo sul mio viso perchè anche io tanto mi devo rimettere la crema quanto è rilassante il rumore dell'acqua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua anche per qua l'antitlazzare te lo sei già messo? sì allora adesso per riposarci un pochino pensavo di intanto volevo guardare un attimo cosa ci hanno messo dentro la bag di benvenuto è vero che è troppo bella qui c'è un elefantino tartarunga sta in una maniera una donna masai e dentro ma senti che sono leggero che sogno ok allora dentro la borsa c'è questo piccolo borsello questo è fatto a mano e dentro c'è il per non so parlare come si dice il gelmani igienizzante dei cotton fioc di legno questa la portiamo a casa questa moringa burro di burro di come si chiama shiabatter com'è che si chiama burro di karité penso moringa cocco macadamia incenso lemongrass e tino senti questo prezzo lo apriamo lo apriamo per sentire che odore ha non voglio arruinarlo voglio arruinarlo anche che spettavo ma che ci 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 dentro è fatto cosi non lo voglio aprire troppo rimetto sfido come è più o meno sai che faccio schifo a fare pacchettini queste cose sono infine una sim card safari com ok questo è un un QR code per azzerare per sostenere un progetto e azzerare le emissioni di co2 dovute al piacere aereo e questo è uno spazzolino un bambù e infine con la stessa fantasia della borsetta c'è anche la barrazza un po' 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 e si qui ci sono i teli e il rumore dell'acqua sto leggendo questo è la storia di una ragazza che ha incontrato la sua anima gemella nella savana qui in Kenya ma sai che ne andremo anche a incontrare in questo piazzo? e della storia della sua vita e di come è finito ad abitare appunto nella savana racconto un po' le tradizioni della comunità Masai in cui vive molto bello, scritto molto bene questa è la copertina sono già pagina 178 e cosa? vuoi vedere le foto di stamattina? aspetta, è che è stato bello il safari all'alba logico allora aspetta che non ho la macchina fotografica qui ma ho già trasferito alcune foto quindi magari ti faccio vedere quelle se ne dici? allora poi ho fatto la foto del menù di stasera allora oggi abbiamo mangiato una insalata col mango un carri di lenticchie con banane grigliate e un macaroni alle mandorle e stasera abbiamo zuppa di cipolle e poi abbiamo la ciapati che è la loro tipo piadina con una con delle verdure e poi un dolce che non capisco cosa sarà vedremo stasera ecco e ti faccio vedere alcune foto del safari di stamattina ok? vediamo l'ho fatto anche lì in video questa è una lì che la puoi che corro non so se sia a fuoco di elefanti che bello e che bello che bello che bello e mi sono innamorata delle foto che ho fatto non so tipo questa con le tue giraffe questa me la stampo o questa le tue riparti e poi solo oggi figurati poi adesso io direi che ok prima ti metto la crema sulle spalle e poi direi che possiamo rilassarci un pochino se vuoi più dormire io penso di leggere un po' qui a bordo piscina il libro ok e poi sì tanto sono già le sono le tre quindi fra meno di un'ora dobbiamo dobbiamo essere carichi per andare a fare il safari del pomeriggio sono emoziontissimo chissà se riusciremo a vedere un leone o un leopardo chissà speriamo allora aspetta che così ok ok Ok, sulle spalle Sì, anche per tutto Spergo bo Spergo un pochino Voglio scuttare se vuoi puoi oggi è un po' tardi ma se vuoi c'è anche la palestra cioè tipo una panca con un peso però vista fiume è molto bello vabbè rilassati che intanto leggo il libro se hai bisogno di qualsiasi cosa dimmelo ok un po' tardi 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 tardi un po' 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 tardi andiamo andiamo andiamo? andiamo? ok.. ci prepariamo per i safari però qui se sta bellissimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti